Sì, vai, sto riprendendo. Ciao Emilia, da Massimo del GF7, è un peccato che non ci sei, ti conoscerei volentieri. Ciao! E' una bella ragazza, eh? Eh? E' una bella ragazza. Emilia, se sei una bella ragazza, allora venimi a cercare, magari ci possiamo fidanzare, noi ne possiamo parlare. Ciao, grazie Massimo. Ciao.